Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. È il 28 maggio del 2010 e il centrale del dipartimento di polizia di Chandler, in Arizona, riceve una strana telefonata. A chiamare sono due adulti, due genitori in realtà. Comunicano alla polizia che loro figlia non dà notizie di sé a nessuno da almeno due mesi e mezzo. Il caso viene affidato al detective Nathan Moffat. L'uomo viene chiamato dal sergente repartoriati contro la persona per un caso di persona scomparsa. Più nel dettaglio il sergente dice al detective Moffat che stanno indagando su un caso di una ragazza 33enne scomparsa da più di 10 settimane. I detective Moffat a questo punto resta esterefatto perché si rende conto che sono in ritardo di 10 settimane. L'indagine parte così tardi dopo la scomparsa che appare ovvio. I detective non avrebbero trovato facilmente piste calde, quindi piste percorribili. Bensì avrebbero dovuto fare i conti con la cosiddetta pista fredda. Le indagini di casi a pista fredda di solito si fanno per dei casi rimasti irrisolti. Ma in questo caso le autorità non hanno a che fare con un cold case, ossia con un delitto irrisolto. Bensì è proprio una scomparsa che non è stata segnalata per tempo. E ovviamente il detective Moffat si domanda come mai la famiglia abbia aspettato così tanto per denunciare la scomparsa della figlia. I genitori di Jamie spiegano che non hanno molti contatti con la figlia. Jamie è descritta come una persona simpatica, solare e molto molto riservata. Raramente ha condiviso dettagli della sua vita con i suoi genitori che sono immigrati tailandesi. Il padre di Jamie però sostiene che nell'ultimo periodo la figlia si sia estragnata ancora di più. Infatti quando va a trovarli sembra scocciata, non vuole raccontare nulla della sua vita. E fa di tutto per andarsene il prima possibile. Poi ecco che arriva il 13 marzo. Quel giorno il padre e la madre di Jamie provano ad andarla a trovare. Prima di tutto perché devono darle dei vestiti. Ma anche perché Jamie non si fa viva da un po' e quindi loro vorrebbero parlarle. Stare con lei ma soprattutto vogliono sapere se va tutto bene, se per caso ha bisogno di qualcosa. Quindi i genitori di Jamie bussano alla sua porta ma non ottengono risposta. Nonostante questo continuano a stare fuori da casa della figlia per un bel po'. Bussano e sono certi che Jamie sia in casa e che non voglia rispondere. Ecco perché si arrendono, lasciano le cose della figlia fuori davanti alla porta d'entrata di casa sua per poi andarsene. I genitori di Jamie quindi non sanno dove sia la loro figlia, non ne hanno assolutamente la minima idea. In cerca di indizi il detective Moffat e alcuni suoi colleghi, non avendo altre piste disponibili, provano a recarsi a casa di Jamie. All'inizio guardano, dalle finestre controllano il garage, che presenta le finestre a piano terra. I detective così vedono che nel garage c'è una macchina. Però i registri della motorizzazione sostengono che Jamie possegga due macchine, non una. Una delle due macchine di Jamie però non è presente nel garage. Considerando che nessuno apre la porta d'entrata, il detective Moffat e i suoi colleghi hanno solo un modo per entrare in quella casa, forzando la serratura. Ed è quello che fanno. Il fine è entrare in quella casa per vedere in che stato si trova. È tutto in ordine oppure è tutto in confusione? Appare un appartamento abbandonato? Manca qualcosa da quella casa che potrebbe far presagire? Che Jamie se ne sia andata volutamente, senza lasciare traccia? Quando entrano in casa di Jamie, i detective sono all'inizio di una nuova indagine e non escludono niente. Quindi si guardano attorno in cerca di indizi utili per riuscire a trovarla. Le autorità trovano la casa visibilmente trascurata, in disordine. C'è una fila di posta sul tavolo e cose sparse ovunque. In realtà la casa non si presenta sporca, bensì piena di cose ammassate a mucchi. A parte ciò non trovano una casa che sembra stata ripurita dopo uno scontro violento. Il detective Moffat sostiene che quando si lavora a case di persone scomparse, tutto è possibile. Lui stesso, in passato, dice di aver visto persone abbandonare completamente la loro vita. Spesso sono oppresse, stufe della situazione in casa, vogliono rincominciare da capo e quindi se ne vanno senza neanche salutare. Di conseguenza, inizialmente i detective non escludono che Jamie si sia allontanata di sua volontà. Manca una macchina da casa sua, ma l'altra è presente. Potrebbe aver fatto una valigia alla svelta ed essersi allontanata senza avvisare nessuno. Ma dopo una perquisizione più minuziosa si rendono conto che non pare che Jamie si sia allontanata volontariamente. Gli armadi sono pieni di vestiti e anche in camera ci sono vestiti ammassati ovunque. Inoltre nell'armadio sono anche ben visibili due valigie e altri effetti personali. Insomma, non pare che Jamie sia partita volontariamente. In mancanza di altri indizi che indichino dove sia andata la ragazza, Moffat chiede l'aiuto del detective Jason Scouten. Quel giorno è il detective di turno dell'unità crimini finanziari e l'unica cosa che gli dicono è che stanno indagando su una persona scomparsa. Una 33enne di nome Jamie Laedi. Il detective Moffat quindi chiede al detective Scouten di provare a stabilire con maggiore precisione dove è scomparsa Jamie. Il detective Jason Scouten controlla se Jamie ha usato carte di credito oppure se ha inviato delle email. E mentre Scouten raccoglie tutti i movimenti bancari di Jamie, il detective Moffat invece indaga sulla sua vita privata tentando di capire chi sia Jamie. Dove è andata? Dove è stata? Da dove arriva? Il passo successivo è quello di contattare tutti i suoi amici che ipotizzano si sia trasferita molto semplicemente. Una sua amica contattata dal detective Moffat dice al telefono L'ultima volta che l'ho sentita mi ha detto che aveva perso il lavoro e che gli avevano fatto un'offerta in un altro stato ma non so dove e che intendeva accettare. Moffat così apprende che non è così insolito da Jamie andare fuori città sparire e partire senza dir niente a nessuno. La sua amica Marlene sostiene che sì, Jamie era una persona riservata ma davvero tanto riservata. E a volte spariva per un po' però poi tornava sempre a rifarsi viva. Marlene però sostiene che non era assolutamente insolito non avere sue notizie per mesi e mesi. Gli amici quindi concordano nel dire che Jamie raramente confida loro dove vada. Per lo più sparisce e basta. Ed è a questo punto che gli investigatori iniziano a chiedersi che segreti si cielino dietro la scomparsa di quella donna. Anche perché il detective Moffat scopre che dovunque si trovi Jamie non è da sola ma con il suo fidanzato Brian Stewart. Ma proprio come lei anche Brian risulta impossibile da rintracciare. La famiglia di Jamie ha aspettato troppo a denunciare la scomparsa della figlia ed ora anche il suo fidanzato Brian è sparito. I detective non riescono a vivere a capo di questa faccenda in quanto nessuno va a dire a loro di aver visto recentemente Brian o Jamie e di conseguenza le autorità non sanno neanche da che parte iniziare. E a dirla tutta questa non è proprio la classica indagine per una persona scomparsa. Marlene continua a ripetere che Jamie sia una persona fortemente riservata ma a un certo punto racconta un episodio. Marlene ha chiesto a Jamie qualcosa del suo passato solo una volta. Ma Jamie ha tagliato corto dicendo che non voleva assolutamente parlare del suo passato. Marlene quindi dice che non sa assolutamente nulla dei genitori di Jamie. Non sa niente della sua famiglia. Il detective Moffat però deve comunque provare a ricostruire un minimo la vita di Jamie. Quindi decide di rimanere in contatto con i genitori di Jamie. Moffat sente spesso suo padre per telefono. Il padre di Jamie spiega che i rapporti si sono seriamente incrinati nove anni prima quando lui e sua moglie le hanno chiesto di tornare in Michigan per studiare e laurearsi. Jamie però la sua famiglia ha detto una semplice parola. No, non voleva più saperne di frequentare l'università. È da quel momento che Jamie inizia a allontanarsi sempre di più dalla sua famiglia. Ha sempre avuto rapporti tesi con i suoi genitori che sono molto ambiziose per lei. Hanno in programma un futuro preconfezionato. Peccato che Jamie questo futuro preconfezionato non lo voglia seguire. I suoi genitori vogliono che porti a termine i suoi studi di medicina ma Jamie non vuole, non ha mai voluto studiare medicina. Piuttosto si è iscritta a quella facoltà perché i suoi genitori le hanno consigliato di farlo. Ma quando Jamie è andata dai suoi genitori a dire che l'università di medicina non faceva per lei i suoi genitori non hanno voluto sentire scuse. Volevano che Jamie concludesse gli studi. Ecco perché Jamie si è allontanata. Era già riservata come ragazza ma in questo caso non si sente proprio compresa dai suoi genitori. A Jamie sembra quasi che i suoi genitori non vogliano lei ma un'altra figlia. Una domanda però continua ad attanagliare i detective. Dove sono finiti Jamie e il suo fidanzato Brian? Nascondono qualche segreto o sono semplicemente partiti senza avvisare nessuno? Gli amici della donna raccontano ai detective che poco prima della sua scomparsa Jamie ha attraversato un periodo davvero molto molto difficile. Infatti all'inizio dell'ottobre del 2009 Jamie perde il lavoro. E questo per lei è un gran problema. Ma non ha contatti solidi con i suoi genitori. Quindi non ha nessuno che possa aiutarla dal punto di vista finanziario. Se la deve cavare da sola. Jamie quindi inizia a cercare lavoro in lungo e in largo. Ovunque. Ma purtroppo questo lavoro non arriva e Jamie rimane senza soldi. E a un certo punto fa capire proprio alle sue amiche di essere a verde. Di non aver più manco mezzo dollaro. Gli amici di Jamie però ci tengono a sottolineare il fatto che sebbene Jamie in quel periodo si sia chiusa in se stessa il suo ragazzo Brian l'è stato vicino. Jamie è molto sensibile e insicure in quel periodo. Si butta giù molto facilmente. E Brian è sempre presente e pronto a tirarle sul morale. Pronto a farle capire che in realtà vale e che presto avrebbe trovato sicuramente un altro lavoro. Gli amici di Jamie sostengono che i due sembrano realmente perfetti per stare assieme. Si prendono in giro a vicenda, sono molto ironici e autoironici. E in effetti pare che i due riescano a trovare un equilibrio per la loro relazione. Inoltre Brian appare come un ragazzo molto premuroso nei confronti di Jamie e gli amici di Jamie lo notano immediatamente ma soprattutto lo notano dalle piccole cose. Ad esempio è lui ad andarle a prendere da bere e lui ad aprirle la porta per primo in qualsiasi locale vadano. Insomma Brian è un ragazzo molto dalante e pare sia molto attento ai bisogni di Jamie. Poco tempo dopo Brian dichiara che Jamie è la ragazza giusta per lui e che vuole sposarla. Mentre Jamie afferma che non si immagina con nessun altro al di fuori di lui. Questa coppia perfetta però continua ad essere scomparsa dove diavolo sono finiti. Sono passate ore dalle denunce di scomparsa di Brian e Jamie. Il detective Moffat quindi decide di utilizzare altri metodi per trovare Brian. Ma quando cerca il suo domicilio trova solo l'indirizzo della casa di Jamie a Chandler in Arizona. E qui in effetti nasce il primo problema perché i detective stanno perfettamente che non vi erano segni del fatto che anche un uomo vivesse con Jamie in quella casa. Questo vuol dire che Jamie pare davvero introvabile. Non c'è modo di capire dove si è andata due mesi e mezzo prima. I detective a questo punto sono ancora senza indizi e sperano che l'automobile di Jamie che non hanno ritrovato nel suo garage le aiuti. Magari la sta usando qualcuno o magari è proprio Jamie a guidarla. I detective sanno che Jamie possiede un Honda Accord del 1999 e lo sanno perché l'hanno trovata a casa sua questa macchina nel suo garage. Ma possiede anche un SUV Ford Escape del 2007 che però non è nel garage. I detective quindi provano a rintracciare quella macchina. Come? Ebbene, dovete sapere che alcune auto della polizia sono dotate di lettori di targhe automatiche. Sono degli strumenti atti a leggere le targhe di tutte le macchine che gli agenti incrociano mentre sono alla guida. Immettono quindi il numero della targhe in un archivio e se la macchina risulta rubata questo lettore di targhe avvisa l'agente di polizia alla guida. La polizia quindi si taccia le strade in cerca dell'automobile di Jamie e inaspettatamente la trova. La targa del SUV della ragazza viene rilevata ma non in un altro stato bensì a soli 29 chilometri di distanza a Scottsdale in Arizona. La coppia scomparsa quindi è sempre stata nel raggio di 30 chilometri. Un detective comunque ha individuato l'indirizzo presso il quale è stata rilevata la targa del SUV di Jamie più precisamente si trova vicino ad un complesso condominiale recintato. L'agente quindi cosa fa? Si apposta in quell'area e in terza serata il SUV di Jamie si ferma proprio davanti al cancello di quel complesso condominiale. L'agente quindi si muove ferma la persona alla guida del SUV e l'identità del guidatore è Brian Stewart il fidanzato di Jamie. Il detective sballordito chiede a Brian dove sia Jamie. Brian però risponde che non stanno più insieme lei si è trasferita in Colorado da ormai 10 settimane e non si sono più sentiti. Ma la sua versione non convince più di tanto gli agenti anche perché c'è da dirlo, Brian sta guidando la macchina di una persona scomparsa. Per il momento gli agenti riescono ad arrestarlo per guida con patente sospesa. Brian in quel momento non è accusato di niente in casa di Jamie non hanno trovato niente che facesse pensare ad una scena del crimine o che Jamie fosse stata vittima di un'aggressione. Il detective Moffat però quando interroga Brian non gira tanto attorno alla questione. Va dritto al punto e gli dice che lui è lì perché Jamie è scomparsa ed è necessario ritrovarla quindi il detective inizia a fare domande a Brian sul loro rapporto. Brian dice al detective Moffat che Jamie odiava vivere in Arizona voleva andarsene basta e quindi aveva accettato un lavoro a Denver in Colorado. Il 17 marzo per la precisione lui e Jamie si erano visti per parlare. Quest'ultimo aveva deciso di accettare quel lavoro di lasciare l'Arizona e partire per il Colorado ed era per questo motivo che i due si stavano lasciando. Però Jamie nonostante non fosse contenta di lasciare Brian i due non avevano litigato di conseguenza hanno deciso di passare l'ultima notte assieme. Brian dice al detective Moffat di essere andato via la notte del 18 marzo alle 4 meno un quarto. Da quel momento in poi non ha più avuto nessuna notizia su Jamie. Brian inoltre sostiene che Jamie gli abbia lasciato la sua seconda macchina come regalo d'addio ma il detective Moffat ovviamente stenta a crederci. L'uomo non si fida di Brian trova che sia un tipo ambiguo e a quel punto teme seriamente per l'incolumità di Jamie. Il detective quindi mette sotto torchio l'uomo. inizia a chiedergli se sa dove sia Jamie se ha fatto del male a Jamie se ha qualcosa a che fare con la sua scomparsa. Ma Brian risponde sempre e comunque no anche dopo ore ed ore di interrogatorio. La verità è che per ore i detective non possono provare che Brian sia implicato nella scomparsa della donna e comunque non è escluso che Jamie si sia davvero trasferito in Colorado di sua volontà. In ogni caso senza prove reali con cui incriminarlo presto Brian se ne sarebbe tornato a casa. Ma a questo punto dobbiamo fermarci un attimo perché credo che ci sia qualcosa che a me proprio non torna. Jamie era ricca perché ha lasciato la casa con tantissimi oggetti personali all'interno. E poi se è partita con che diamine di macchina è partita? Una stava in garage l'altra la stava guidando il suo ex fidanzato Brian. Sono state trovate un paio di valigie all'interno dell'armadio di Jamie quindi la domanda è con quale valigia è partita? Quali vestiti indossa e si è portata dietro considerando che il contenuto di metà armadio è sparpagliato per la camera mentre l'altra metà è nell'armadio. Qualcosa non torna. A me non pare che Jamie si sia trasferita. Il punto è che l'unica persona per quanto ne sanno le forze dell'ordine che possa avere informazioni su dove sia Jamie è proprio Brian Stewart. Ma i detective sono convinti che una volta uscito di prigione Brian sarebbe sparito e avrebbe fatto qualsiasi cosa per non farsi più rintrecciare. Ed è proprio questa la cosa peggiore per i detective. La consapevolezza che se non riescono a trovare una svolta nelle indagini l'avrebbero rilasciato sarebbe sparito e loro sarebbero rimasti con le mani vuote. Questa parte dell'indagine è sicuramente la più stressante perché a quel punto i detective sanno che devono trovare qualcosa per inchiodare il loro unico sospettato e devono agire in fretta. Ottengono quindi ben presto un mandato per perquisire casa di Brian a Scottsdale e quando i detective entrano sono sorpresi da ciò che vedono. In casa c'è un ordine meticoloso maniacale entrando nell'ingresso la prima stanza sinistra è adibita ad ufficio e ad una prima ispezione le autorità notano un portafoglio da donna presente sulla scrivania. Continuando a cercare trovano anche una busta bianca inizialmente non capiscono cosa contenga sembra qualcosa piatta e di plastica fatta a pezzi molto piccoli. I detective quindi svuotano quella busta e scoprono che lì dentro c'è la patente di Jamie tagliati in almeno 30 o 40 pezzi. Insieme alla patente distrutta sono presenti anche due carte di credito. Ma perché Brian è in casa con le carte di credito? Che cos'è successo realmente? ipotizziamo per un secondo che Jamie sia davvero partita per un altro stato. Direi che le cose essenziali da portarsi dietro sono i documenti e la carta di credito o le carte di credito. Qui di conseguenza trovo un'ennesima domanda alla mia domanda precedente. Prima mi sono chiesta come è possibile che la macchina di Jamie sia rimasta in garage? Con che mezzo è partita? Ora aggiungo soprattutto con quale patente è partita e con quali soldi? Scavando più a fondo scoprono come Brian abbia usato le carte di credito di Jamie. Le autorità trovano un secco di ricevute di siti di incontri per adulti e altre transazioni effettuate palesemente da Brian. Anche la sera in cui gli agenti hanno provato a rintracciarlo scoprono da una ricevuta che Brian era ad un incontro organizzato con una ragazza su internet a pagamento. I detective però non sanno ancora cosa sia successo a Jamie fino a quando il detective Jason Scouten non trova un altro indirizzo. È così che i detective iniziano a scoprire i segreti più oscuri che si c'erano sotto le apparenze. Infatti i detective trovano strani indizi nell'appartamento di Brian a Scottsdale a partire dal suo certificato di nascita. Quel certificato di nascita è tutto quanto scritto a mano e i detective sanno che la maggior parte dei certificati di nascita sono scritti a macchina. Ha tutta l'aria di essere un tentativo di simulare una copia autenticata. Sembrerebbe insomma che Brian si è invischiato in qualche genere di truffa e man mano che i detective proseguono con la perquisizione del suo studio i sospetti e i messi concretizzano. Il detective Jason Scouten infatti trova una pusta dell'ufficio postale indirizzata ad un certo Rick Wayne Valentini a un altro indirizzo di Scottsdale. La prima domanda che i detective si pongono è chi è Rick Valentini? Sul momento il detective Scouten pensa che Brian abbia rubato della posta. Forse aveva già fatto altre truffe e rubato altre carte di credito. Poi cercando ancora il detective scopre il certificato di divorzio di un certo Rick Valentini. La domanda che continuano a porsi i detective si fa ancora più pressante e se ne aggiunge anche un'altra chi è Rick Valentini e perché Brian ce l'ha con lui? I detective così si mettono all'opera e rintracciano l'ex moglie di Rick Valentini ossia Cynthia e la contattano telefonicamente. Prima di tutto la donna spiega che Rick ha un'ulteriore ex moglie con due figli. La donna poi racconta che lui e Rick si sono conosciuti nel Michigan si sono sposati e poi lui l'ha lasciata per andare in Arizona ma non se ne è andato a mani vuote. Infatti prima di andarsene Rick ha rubato un sacco di soldi al padre della donna se in contanti che tramite le carte di credito. Quando poi si è rifatto vivo dopo mesi ha detto alla donna che avrebbe cambiato nome avrebbe quindi cambiato vita poi è sparito. A quanto pare l'uomo ha cambiato nome anche per non continuare a pagare il mantenimento dei figli che aveva avuto con la sua prima moglie. In effetti l'uomo dopo aver cambiato nome da Rick Valentini a Brian Stewart ha tagliato i ponti col passato non è rimasto in contatto con nessuno della sua vecchia vita. Gli investigatori a questo punto sono senza parole ma sono sicuri che lo scheletro nell'armaglio di Brian non sia solo quello della falsa identità. Quindi chiedono a Cynthia se per caso in passato Rick Valentini sia mai stato violento con lei e la donna risponde di sì. Racconta che in un'occasione ben precisa stavano avendo un litigio molto molto pesante si stavano urlando addosso a vicenda poi di colpo Brian l'ha colpita con uno schiaffo e l'ha presa per i capelli. In poco tempo insomma i detective scoprono che Rick Valentini non solo è un truffatore ma ha pure un passato alquanto violento. Le prove del reato di truffa sono sufficienti per mantenere Brian in custodia cautelare. I detective però non hanno ancora piste che li conducano a Jamie devono ottenere informazioni su di lei scoprire cosa si è successo. È in pericolo? È già una vittima? Oppure se ne è semplicemente andata? Successivamente il detective scotel trova un estratto conto bancario e nota che sulla prima pagina c'è una transazione per un magazzino di depositi temporanei in affitto. Le autorità sanno che devono controllarlo immediatamente quel magazzino. Uno dei detective infatti si è messo immediatamente al telefono per trovare quel magazzino di depositi in affitto. Devono identificare il box di Brian e mandare qualcuno a sigillarlo. il detective Moffat è convinto che in quel box ci sia Jamie. Le autorità quindi trovano il box di Brian e inviano degli agenti a ispezionarlo ma dentro non c'è quello che cercano non c'è alcun corpo. A suo posto però trovano degli indizi alquanto allarmanti. Infatti nel box affittato sono presenti un fucile a canne mozze una pala visibilmente sporca di terra e infine lì vicino un rotolo di nylon nero. Le prove lasciano pesagire il peggio e sono inquietanti è vero ma al massimo queste sono prove circostanziali in quanto i detective non hanno una vera e propria scena del crimine né le prove biologiche che la ragazza sia stata uccisa infine non hanno neanche un corpo. La strada per l'autorità si prospetta tutta quanta in salita. Il detective Moffat però è convinto di avere tra le mani un elemento essenziale ossia il possibile movente. Infatti da un esame più approfondito dei movimenti della carta di credito di Jamie dimostra che la donna ha pagato qualcuno per indagare sul passato di Brian. È possibile che Jamie avesse dei sospetti sulla vera identità del suo partner? Jamie è una ragazza intelligente forse parlando con lui ha notato delle incongruenze certo è possibile che Jamie abbia scoperto la verità su Brian ma va anche dimostrato serve in pratica una prova inconfutabile. Brian nel frattempo è ancora dietro le sbarre e per i detective in un certo senso quel ragazzo è un vero e proprio enigma e per risolvere il caso di Jamie sanno che devono decifrarlo quell'enigma in qualche modo. Il detective Moffat è determinato a concludere la sua indagine su Rick Valentini ma non ha prove concrete bensì un'ipotesi è convinto che scavare nel passato di Brian sia stata la rovina di Jamie. Secondo il detective Jamie l'ha scoperto e l'ha affrontato nonostante i due si stessero davvero lasciando. Forse Jamie già voleva andarsene dall'Arizona e l'ha scoperta che il suo fidanzato non sia ciò che dice di essere è stata magari una spinta in più per compiere quel passo e decidere una volta per tutti di partire per Denver. Il detective sostiene che forse Jamie sia arrivata anche a minacciarlo di chiamare la polizia per rivelare che sia un truffatore o meglio forse Jamie vuole contattare la polizia perché non crede che Brian sia che dice di essere e ne ha pure le prove. Ecco perché lui l'ha fatta sparire altrimenti perché mai tenere un fucile a canne mozze una pala ancora visibilmente sporca di terra e un grosso rotolo di nylon nero all'interno del deposito in affitto Moffat è convinto che Rick Valentini abbia sparato a Jamie e l'abbia seppellita da qualche parte nel deserto dell'Arizona. In pratica la polizia a questo punto all'arma del delitto ma non una scena del crimine con le relative prove né un corpo e per il detective Moffat è essenziale trovare i pezzi di puzzle mancanti. È sicuro che lui abbia ucciso Jamie ma vuole riuscire a risolvere il caso e a trovare delle prove che inchiodino Rick e l'unico ad avere tutte le risposte è proprio quest'ultimo Rick Valentini ed è a questo punto che Rick Valentini fa uno sbaglio perché dovete sapere che in carcere le persone tengono a parlare parecchio in alcuni casi i detenuti o coloro che sono in carcere in attesa di processo di solito si confidano con i loro compagni di cella per sfogarsi e raccontano tutto della loro vicenda e infatti il compagno di cella di Rick Valentini ad un certo punto ha contattato le autorità tramite il suo avvocato l'uomo quindi dice ai detective mi ha detto vorrei sapere dove stanno cercando capite? si chiede dove stiate cercando il corpo e se ci siete vicini poi mi ha detto chiaramente che le autorità lo sanno che è stato lui ad uccidere la sua ragazza ma non possono accusarlo di nulla se non c'è un cadavere giusto? quello è il momento le autorità l'hanno davvero davvero incastrato non c'è più ombra di dubbio Jamie l'ha fatta fuori Rick Valentini o Brian Stewart che sono tra l'altro la stessa persona nel marzo del 2011 l'uomo viene incriminato per l'omicidio di Jamie Laedi il giudice lo condanna a 22 anni di carcere per omicidio e a 32 anni per truffa e detenzione di armi arriviamo al 21 genio del 2018 quando vengono ritrovati i resti di Jamie in Arizona nell'area di Sun Lakes presso una società di forniture paesaggistiche di Chandler in Arizona mentre dei lavoratori stanno spostando dei grossi cumuli di terra che evidentemente non venivano toccati da anni detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento conoscevate questo caso e in caso cosa ne pensate fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti detto questo ragazzi vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi grazie a tutti